Con la riapertura degli impianti sciistici in Abruzzo fissata per il momento per il 15 di febbraio, freme la voglia degli sciatori di tornare sulla neve. In provincia di Teramo gli impianti dei prati editivo con ogni probabilità non riapriranno, questo perché la Gran Sasso Teramano, la società pubblico-privata in liquidazione proprietaria delle attrezzature sciistiche dei prati editivo e Prato Selva, non ha più in concessione i terreni dove insistono gli impianti dopo la recessione del contratto di concessione dell'ASBUC. per il mancato pagamento dei canoni. Ma nel frattempo, in ottica futura, gli operatori presenti nel comune montano hanno annunciato di essere favorevoli all'idea lanciata dalla provincia di Teramo, e cioè di creare una bretella di collegamento con la 24. Siamo felici che su questa idea iniziamo a trovare le prime adesioni. Io sono sempre felice quando le idee vengono portate sui tavoli e dobbiamo capire le sostenibilità, se noi poi rischiamo, come ho letto un po' sulla stampa, le fantasie della politica. Noi ci abbiamo creduto da due anni, era un sogno, era una follia, era un'idea vecchia che tanto non si farà mai e invece oggi se ne parla perché su quella idea, su quelle prime schede che abbiamo fatto, Roma ha deciso di stanziare i primi 500 mila euro per procedere alla progettazione esecutiva di questa strada e, come d'accordo con Roma, appena fatto il progetto sono pronti 26 milioni di euro. Lo dico qui e l'ho detto quando abbiamo iniziato a scherzare su questa strada che si può fare o si farà se aveva una compatibilità, una sostenibilità anche ambientale. Chi ha deciso su questa strada sono professionisti che vivono la montagna e quando abbiamo avuto l'ok siamo partiti. Lo dico alle comunità, sento qualcuno che si preoccupa, qualche città potrà scomparire, morire, non è così perché questa strada che se ne parla da 50 anni, 50 anni tanti paesi invece di crescere sono in decrescita, sono i fatti che ce lo dicono. Questa strada invece potrà portare la speranza alle realtà montane, ai paesi montani e dare una scienza anche ai paesi vicini alle montagne perché più persone tu porti in montagna e più persone da lì poi riscenderanno a Montorio, a Tossicia e faranno le visite che dobbiamo fare come andare a vedere il paese dei bambini a Tossicia oppure andare a Montorio a comprare di Boccorotti, portiamo più geni, diamo una scienza alla montagna. La montagna può ripartire oltre ai servizi con le infrastrutture.